Le novità sono sicuramente l'ampliamento del pacchetto dei concorsi, c'è il bartender che entra con un bel concorso per professionisti e per principianti. Ci sono anche delle nuove lezioni, dei nuovi corsi di latte art, sempre per quanto riguarda il bar. Ci sono tanti gusti creativi, la pasticceria, la gelateria, la cioccolateria, ci sono tanti ospiti importanti da fuori regione, ospiti internazionali, ma anche grandi personalità abruzzesi che sono riusciti a portare fuori il nome Labruzzo in maniera più che adeguata negli anni. E quindi è il caso di riconoscerli tale merito, infatti li premeremo anche, li riconosceremo a una targa. Ci sono tante attività, c'è una scultura di cioccolateria, ci sono i laboratori per bambini, per adulti e bambini, nel senso che poi ci sono sia laboratori che corsi gratuiti anche per adulti, di cake design, di pasticceria, di gelateria. E quindi ripeto, insomma, per quanto riguarda i bambini, così come anche dei gonfiabili. Insomma, è il giusto mix tra quella che è la professionalità e le eccellenze professionali e dei prodotti tipici abruzzesi, e quindi per gli addetti al settore, invece poi miscelati con il divertimento delle persone. Quindi è un evento costruito dagli addetti al settore, ma poi in realtà è pericoloso per il divertimento del pubblico. Taglio nel nastro il 26 alle ore 16, vi aspettiamo tutti insieme, ci saremo quindi il venerdì tutto il giorno dalle 16 alle 23, il sabato idem, stesso orario, il pomeriggio, mentre la domenica apriremo anche la mattina. Vi aspettiamo per far colazione insieme la mattina, la domenica, dalle 10 in poi.